S.A.U.S. 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 Nicolas Mendoza Merda Che cazzo ci fa uno come te qui? S.A.U.S. 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 A.U.S. S.A.U.S. Tredizione Nick, sei alla narcotici, ti puoi permettere qualcosa di meglio di riso e fagioli. Riso e fagioli? Dici sul serio. Amico, ordino io per te. Ho un'idea, scelgo io il posto. Che ne dici? Vedrai chi ti passerà la voglia di mangiare banane. Hai mai mangiato? Credo che stavolta dovresti occupartene tu, va bene? Insomma, fatti valere. Tieni gli occhi bene aperti e li faremo fuori prima che trovino il tempo di farsela addosso. Non è la prima volta che lo faccio. Beh, con me sì però. Va bene, andiamo. No, tira fuori la tua voce maschia. Polizia! Stiamo entrando! Polizia! Polizia! E nessuno si muove! Non muovetevi cazzo! Le mani in vista! Potemele vedere! Le mani bene in vista! Indietro, allontanatevi dal tavolo! Hai bussato la porta sbagliata. Oh merda, amico, dai! Togliermi questa luce dalla faccia, no, eh? Manentari, andiamocene via. Ok. Mani sulla testa e girati lentamente. Piano. Calma. Calma. Stai facendo un grosso uore. Grazie. Girati, niente passi passi. Questa è una cazzata. Tu lo sai che è una cazzata. La mattina sarò fuori, Sbirro. Tu lo sai. Davvero? Quella coca mi dice che non sarà... Ancola! Cazzo. La situazione è degenerata. Che cazzo è? Aspetta, non hai controllato la porta? E io dovevo arrestarli. Tu dovevi controllare la stanza. Va bene. Controlla i cadaveri. Vedi se riesci a capire che cazzo stavano facendo. Bingo. Sì? Cosa abbiamo? Portafoglio. Documenti. Qualcuno che conosci? No. Nulla da fare. Peccato che non ci sia più nessuno da interrogare. Ehi, ero stanco di hamburger. Così ho scelto il cubano. Qualcuno ha fame? Ehi! Fermo lì! Mi inseguino! Vai, vai! Penso io! No! Muoverti! Mani in alto! Così peggiora è la situazione! Sto a cazzo! Sponda! Vai di sotto! Ora! Escelerò fuori! Sì. Non uccidere nessuno. Dobbiamo fermarlo. Diretti a nord sulla Matteo. Ci fermano i forti. Speriamo a finito sulla Crocker dalla Matteo. Incrocio libero. Certifici. Czyli chi? Acamo detto! Acamo detto! Non ci siamo, dobbiamo prenderlo Aspetta che mi avvicini Doddard, ora! Oh, cazzo, iattito Non ti muovere Li abbiamo preso, figlio di me Grazie, quattro centrale Ti abbiamo preso, la stella stella dell'attività Nick, ci siamo Tira fuori di lì, quello stronzo Hai il diritto di rimanere in silenzio Hai studiato legge, coglioni Grazie a tutti 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 Ciao Ciao Ciao